Cominciamo dai fondamentali. Come è fatto un pitch? Questa presentazione in powerpoint che per Sequoia, che è uno dei principali fondi di venture capital al mondo, si struttura in dieci punti ed è lunga circa una quindicina ventina di slide. Tutto comincia con il company purpose e quindi solitamente la copertina stessa della presentazione che definisce la startup in una singola frase. Molto importante perché spesso e volentieri l'investitore si ferma a questa prima copertina per capire se proseguire nella lettura. Poi si spiega il problema e quindi si descrive qual è il problema che ha il cliente che cerca di essere risolto ma che oggi il cliente non riesce a trovare sul mercato come soluzione efficace. Quindi si presenta la propria soluzione, si dimostra come la propria value proposition migliori la vita del cliente, si mostra il posizionamento di questa rispetto alle altre, si forniscono dei casi d'uso, degli esempi di utilizzo della propria soluzione per risolvere i problemi del cliente. E poi si spiega perché ora, perché proprio adesso questa soluzione è disponibile, prima non era possibile farlo, ad esempio perché ci sono dei trend tecnologici emergenti che hanno reso fattibile la soluzione che si propone rispetto a quella dei concorrenti che magari insistono su tecnologie precedenti ormai desuete. Infine si cerca di capire le dimensioni del mercato a cui ci si rivolge, perché i clienti che hanno questo problema possono essere tanti, possono essere pochi, più grande il mercato e più redditizio meglio è. E quindi si calcolano le dimensioni di questo mercato e poi approfondiremo meglio o più avanti che cosa sono queste dimensioni, questo TAM, questo mercato disponibile, il mercato accessibile e in qualche modo quello servito. Infine si procede con l'analisi della concorrenza perché questo mercato dovrebbe avere, a meno che non si sia inventato qualcosa di veramente disruptive, dei concorrenti e questi concorrenti sono già presenti e bisogna capire quali sono i vantaggi competitivi che ci rendono unici, quali sono le cose che ci contraddistinguono, magari utilizzando una tabella di benchmark per paragonare la nostra offerta rispetto a quella della concorrenza. Poi ci si concentra sul prodotto, come è configurato, quali sono le sue funzionalità, le caratteristiche, se c'è eventuale proprietà intellettuale e poi tutta la roadmap di sviluppo della propria offerta che comincia con il pitch ma poi prosegue dopo l'investimento con lo sviluppo vero e proprio. Poi ci si concentra su come si fanno i soldi con questa offerta, il business model, quindi ci si concentra sul modello dei ricavi, il pricing, la vita media di un cliente, quanto valore si può estrarre dalla relazione con il cliente, come si distribuisce e in qualche modo se c'è anche già una prima clientela si forniscono delle informazioni su di essa con la lista clienti. Ci si concentra inoltre sul team che è fondamentale perché questa attività, questa startup dovrà essere sviluppata da persone che devono dimostrare di avere le competenze, il track record, l'esperienza per poter rispettare le promesse fatte nel pitch. Non mancano spesso e volentieri la lista del board of directors e il team di advisor che anche se di tipo americano come concetto spesso e volentieri vengono ormai utilizzati anche in Italia. Infine tutta questa presentazione qualitativa, trova un riscontro quantitativo nella slide dei financial in cui si riassumono i dati principali di conto economico e stato patrimoniale, profit and loss e balance sheet, i flussi di cassa, come è strutturato il cap table, quindi le quote societarie a chi sono assegnati in questo momento e poi si fa un'offerta, the deal, all'investitore essenzialmente dicendo in cambio di questi soldi ti offro queste quote. Ora c'è una società Docsend che ha addirittura analizzato 200 pitch per capire come sono strutturati essi e quante slide dura ciascun elemento analizzato nella lista di sequoia. Qui vediamo come il company purpose sia solitamente lungo la lunghezza di una slide, una slide e 8 sia presente per il 73% delle volte. Problema, soluzione sono abbastanza rilevanti, problema soprattutto viene presentato spesso e volentieri. Sulla parte invece del perché ora, del why now, a volte c'è, a volte no. Si si concentra spesso sulla descrizione del mercato, sicuramente il 96% delle volte vuol dire quasi sempre sul prodotto su cui si spendono più e più slide, vediamo 5 slide è il numero medio di slide dedicato alla descrizione del proprio prodotto, 100% delle volte si spiega il team, quindi il team importantissimo e c'è sempre. Si argomenta la modalità in cui si fanno soldi, quindi business model, spesso e volentieri 65% delle volte si racconta la competition, quindi competitor e come si affronta e come ci si posiziona rispetto ad essi, spesso e volentieri 60%, anche se vediamo che a volte è assente questa parte, spesso e volentieri viene raccontata più avanti agli investitori interessati, ci sono i financial. L'ordine con cui compaiono queste slide viene in qualche modo proposto sia da Sequoia, l'ordine ideale, che quello che ha osservato Docsand nelle 200 startup di cui sono stati analizzati i pitch. Vediamo che l'elenco e l'ordine è pressoché lo standard per le prime 5, quindi si parla di company purpose, problema, soluzione, perché ora, market e le dimensioni del mercato. Poi prodotto, team, business model, competition, financial sono l'ordine preferito dalle startup analizzate da Docsand, mentre Sequoia dice, no parliamo prima dei competitor, dopo aver parlato del mercato, il prodotto, business model, il team e i financial.